Salve a tutti ragazzi e bentornati nella serie di sopravvivenza episodio numero 204 Oggi siamo qui all'interno di questo castello che poi è la nostra base, ormai quasi vera e propria della zona ghiacciata Tra l'altro fatemi fare una simpatica cosa perché se no è un casino qui, ok perfetto Allora, voi non avete visto niente ovviamente però quello che voglio farvi vedere oggi A parte il fatto che devo risettarmi lo spawn point qui perché se no è un po' un problema Devo farvi vedere come sta procedendo la struttura dell'albero ovviamente E poi oggi andremo avanti un pochino ad aggiungere dettagli e continuare quella che poi diventerà la zona pranzo In realtà non si tratta di continuare ma si tratta proprio di iniziare la zona pranzo Allora l'albero lo vedete là in lontananza, non ho lavorato molto sull'esterno quanto invece di più sull'interno Adesso vi faccio vedere un attimino quali sono state le modifiche che ho apportato In modo da, insomma, aggiornarvi per bene Allora, eccoci qua Come potete vedere ho aggiunto questo balconcino esterno, potremmo dire, una sorta di rampa che sarà da quella parte E un altro balconcino di qua Nella scorsa puntata se non mi sbaglio ci siamo anche lasciati con il balconcino esterno da questo lato Tra l'altro qui c'è un po' di terra random che voglio togliere L'avevo utilizzata mi pare come appoggio per costruire una roba Eccola qui, esatto Questo qua è l'altro balconcino che è simmetrico rispetto a questo E vi faccio vedere un attimino come si presenta all'interno Diciamo tutta quanta la struttura Allora, qui dentro ho aggiunto questa sorta di parte che scende, potremmo dire, non saprei bene come definirla In legno grezzo, non so ancora bene come andare poi a svilupparlo Ma già così non è malissimo È giusto per non lasciare tutto quanto lo spazio vuoto qui Che comunque in qualche modo andrò a riempire, sicuramente Allora, come potete vedere qui ho messo un cancelletto Perché continuavano ad entrare mob Quindi ho voluto mettere questo E di qui abbiamo un cancelletto invece esterno Come potete vedere di primo qui non c'era assolutamente nulla Però passando da questa parte si passa proprio all'esterno Con la caduta libera da questa parte E di qui si sale In questo modo si arriva nel soggiorno Che abbiamo visto nella scorsa puntata Ma che appunto tra un episodio e l'altro Io ho provvenuto ad aggiornare Di qui c'è il solito balconcino Qui si entra nella porta e finalmente Cominciamo a vedere un po' l'albero arredato Qui tra l'altro ci sono tutte quante degli oggetti Che ho riposto nelle ceste perché non sapevo bene dove metterli E qui è ancora tutto quanto un pochino grezzo C'è ancora un letto messo qui un pochino a muzzo Però insomma diciamo che l'albero comincia un po' a prendere il suo aspetto Che sarà poi quello pseudo finale Eccoci qui Sono molto molto contento di come sta avvenendo E questo qui è appunto il passaggio esterno che vedevamo prima E quindi insomma La mia idea sarebbe appunto quella di creare Una situazione molto intricata All'interno di tutto quanto l'albero Qui magari di fare un passaggio segreto Non lo so Insomma poi ci organizziamo bene Ho messo anche un jukebox qui a caso Ho messo dei quadri, delle cose molto molto carine E qui ho cominciato a sviluppare quelle che poi saranno le stanze Che come vedete sono molto piccole Con questa finestrella che dà sull'esterno Non c'è molto Però insomma Devono essere delle stanze semplicemente per dormire E riporre qualche materiale nelle ceste Sono praticamente identiche comunque sia E devo dire che in realtà mi piacciono anche un sacco Qui ho messo questa immagine qui Che potrebbe un po' ricordare Quello che poi tipo potrebbe essere una sorta di foto Dell'albero Di come verrà l'albero alla fine Non lo so Però Non so Potrebbe essere una roba simpatica E ovviamente tutte quante le decorazioni che ho messo Sono a tema alberi Natura E cose di questo tipo Saliamo di qui E abbiamo quella che diventerà La sala da pranzo Ora Di qui ho costruito questa sorta di balconcino Al momento È assolutamente inutile Tra l'altro tutti quanti questi rami Dovranno essere riempiti di foglie Esattamente come sono questi Dovrò andare a mettere altri funghi In questo modo E continuare insomma tutti quanti i rami Eccetera eccetera Dopodiché Abbiamo messo queste vetrate Molto molto fighe Che poi in realtà non sono vetrate Ma sono semplicemente Dei paletti messi in questo modo Sono molto carini Devo dire E da questa parte Eccoci qui Abbiamo l'accesso al piano superiore È ancora altissimo l'albero ragazzi Non so bene cosa andrà a metterci qua sopra Però poi ci penseremo Tra l'altro mi avete suggerito Di andare a mettere delle strutture Tipo esterne all'albero Tipo appese ai rami Ed è una cosa che assolutamente voglio andare a fare Poi tra l'altro La mia idea sarebbe anche quella di andare a costruire Un gufo Sì ragazzi un gufo Da mettere tipo sopra un ramo Come se praticamente appunto Si fosse appoggiato al ramo E insomma stesse lì ad aspettare Tra l'altro non sono ancora abituato A andare in giro per questo albero Infatti continuo a perdermi Però fa niente Allora quello che voglio andare a fare adesso È come detto La zona interna Tra l'altro ho anche qui un altro jukebox Perché all'inizio pensavo di metterne uno Anche al piano superiore dove c'è la cucina Però alla fine dei conti penso che non andrò a metterlo Perché dovete sapere che la mia idea originale Era quella di andare a costruire Una zona cucina Simile a una sorta di bar Ma poi l'ho rivista e ho detto Ma sai che non mi piace tantissimo Meglio organizzarla come una strada pranzo effettiva E quindi eccoci qui Perfetto Allora a parte il fatto che mi mancano dei legnetti di betulla Perché senza la betulla ragazzi non faccio nulla E ho fatto pure rima Prendiamo questi In realtà me ne servirebbero molti altri Fuck, fatemi andare a prendere magari alla base Ok, eccomi qui Sono ritornato Ho preso anche un po' di fish Un po' di pesce Un po' di cod Perché non avevo altro cibo Qui nella base Cioè nella base, nell'albero E allora vorrei andare adesso a mostrarvi Quello che sarà il design Che ho scelto per... appunto per la zona pranzo Che in realtà non so bene se ci... Cioè se sarà presentabile in un certo senso Però io ci provo Dunque vediamo Allora vorrei andare a realizzare da questa parte Quindi praticamente andando a mettere Questo qui Sì, legno di spruce In questo modo Quindi ruotato per intenderci Quindi bam 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 E anche scortecciato Lui vediamo se posso toglierlo senza fare danni Sì, perfetto Poi devo andare a mettere da questa parte Tutte quante delle botole E ho già finito il legno Porca troia Allora aspettate un attimo Facciamo così Mi devo procurare ragazzi veramente un botto di crafting table Poi da questa parte Devo andare a mettere lui Quindi alto 2 Mi rendo conto soltanto ora che mi serve un'altra botolina Perfetto Perché qui ci sarà un passaggio che c'è e non c'è Nel senso Quando vuoi passare qui sotto Tipo e passare così è un attimino più comodo Ma in realtà anche così Cioè ci si riesce a passare un po' senza... E all'ordine in realtà si batte un po' la testa eh Però No dai Ci si passa proprio a filo Quindi potrebbe starci Poi in questo punto Devo andare a mettere uno scaffolding di qua E... No Sai cosa? Uno qui E uno qui Vai Poi questo qui Libriamo un attimino lo spazio Cazzo è sta roba Via Ok Perfetto Così c'è un passaggio un pochino più Passaggioso Allora mi serviranno Altre Altre botole Quindi Che cacchio ho appena fatto? No Così Perfetto Dunque devo andare a mettere le botole Tutte quante in questo senso Eccoci qui Le ho già finite vero? Sì E l'ultima Eccola qua Poi vado a mettere delle pressure Però le pressure si fanno così Quindi una qua E me ne servirà un'altra Quindi facciamo così Perfetto E poi vado a mettere Delle botole In questo modo Eccoci qua Perfetto Facendo così Abbiamo ottenuto delle sedie Un po' alte Che però Che fanno aprire tra l'altro Anche le botole Questa cosa Non mi ispira più di tanto Allora magari togliamo questa Facciamo in questo modo Dai Mettiamo il tappeto Me le ero portati su Perché dicevo Probabilmente mi torneranno utili Ed effettivamente Tornano utili Perché in questo modo ragazzi Abbiamo un effetto sedia Che è molto simile Alle sedie dei bar Che sono molto molto alte Che non ci arrivi Semplicemente Sedendoti Sedendoti ci sopra Ma devi tipo Scavalcare un pochino E saltandoci sopra Non so se avete capito Le sedie che ho in testa io Poi mi serviranno Tipo tantissimi Barili Quindi li vado a fare subito Eccoci qua Perfetto Ma sapete che famo? Mezzo che me ne faccio altri Dai Facciamo i seri Facciamone veramente un botto Che così siamo a posto Uno, due, tre, quattro Togliamo la torcettina Uno, due, tre E È storto Porca Eva Tre E Dai ma stiamo scherzando Tre E quattro Ok Mettiamo le trapdoor Di spruce In modo da creare Un po' questo effetto Ce la faccio A mettere una Cazzillo così Ok Per favore Ti prego Ok Eccoli qui Bellini Dai è belli Questo posso anche toglierlo E ci siamo Abbiamo ottenuto una sorta di Mobiletto Messo un attimino lì così Ora ovviamente Gli item frame Li posso mettere qui sopra Come se fossero un po' dei piatti Quindi Così E dai Comincio a lavorarci un pochino E poi ci rivediamo tra poco Così vi faccio vedere Come sta procedendo la situa Ragazzi Finalmente ho finito Pensavo di utilizzare Tantissima birch In realtà non l'ho praticamente toccata All'inizio la mia idea era appunto Quella di utilizzare la birch Per fare Sai Molti dettagli Con colori chiari Tendenti tipo A questo colore qua Che poi è Smooth sandstone In questo caso Però Volevo utilizzare la La birch Ma alla fine non l'ho utilizzata E ragazzi Devo dire che Il risultato è Cavolo È fichissimo Veramente molto molto figo Allora vi faccio fare un tour veloce Così la guardate tutta quanta per bene Ci sono molti dettagli Ho messo queste Lanternine così Che sono un po' in mezzo ai coglioni Però non sono Cioè non sono malissimo diciamo Poi ci ho messo questo coso qui rosso Perché c'è fotto Raga È molto molto figo Mi piace Stacca un po' da tutto quanto il resto E ci sta un sacco Ho messo il lavandino Con l'acquetta qui dietro Molto molto figa Ho messo Un po' di bambù in giro Perché danno un po' di colore Non c'entrano un cazzo Con le zone fredde Ma ci sta un sacco Secondo me il colore chiaro Che stacca ogni tanto Anche il giallo tipo qui Anche il giallo del miele Le ceste qua Che sono Effettivamente un po' gialline Così come le scale in realtà E niente Sono molto molto soddisfatto Qui ho messo un po' di piantine Un po' di cose E devo dire che come zona Pranzo Secondo me ci sta Ci ho messo due zuppe Qui perché a quanto pare Stanno mangiando delle zuppe Con il calice Che c'è il calice Il bicchiere Che in questo caso è un Un cetriolo di mare Messo così Molto Molto naturale Devo dire E niente ragazzi Sono molto contento Di com'è venuto Diciamo che Salendo da questa parte Si ha proprio Un bel colpo d'occhio E adesso vorrei anche Provare a fare una cosa Che probabilmente Mi farà esplodere il pc Però ci voglio provare comunque Vale a dire Vado un attimino qui Tolgo il fast render E provo a mettere le shaders E niente ragazzi È fighissimo A parte il fatto che I cetrioli di mare Oscillano E sono un po' bruttini Ma questo qua È un bug Della Optifine Dovrebbe essere Però è Fighissimo Probabilmente adesso La registrazione Sta andando Sì sta andando Ma vado tipo A mezzo fps Fatemi vedere Per curiosità 14 fps Cioè ragazzi Fa schifo Da vedere con Con le shaders A livello di fps Però Appena avrò il portatile Nuovo O comunque Appena avrò il pc fisso A Milano Cioè appena Torno in Italia Avrò a disposizione Il computer fisso Giocheremo con le shaders E le vedremo così Vi faccio vedere adesso Degli screenshot Magari un pochino Più carini Beh che dire ragazzi Di anche con questi screenshot Possiamo concludere Degnamente l'episodio Ve li lascio un attimino Qua per qualche secondo Così ve li potete godere Tutti quanti Spero che questo video Vi sia piaciuto Ci vediamo nella prossima puntata Della serie di sopravvivenza Mi raccomando Io vi aspetto sempre qui Nella base Ci vediamo lunedì prossimo Stay care And I'll see you next time Bye